La prossima volta poi parleremo della recente Scoperta degli astronomi E precisamente di quel misterioso campo gravitazionale Che sopravvive alla morte di una stella Ossia, con rispetto parlando, il buco nero Professore, professore, mi scusi, posso fare una domanda? Certo Ma questo non fa parte dell'educazione sessuale Bravo, bravo E' l'educazione sessuale Vieni con me, tutti e tutti Prendi il diario, vieni, adesso te lo faccio fare io Lo spiritoso, vieni qua, vieni, vieni Vuoi fare lo spiritoso, Fabio L'educazione sessuale, bravo Che c'è questo? Ah no, l'ha messo in moto Ah, l'ha messo in moto, l'ha ancora in sette E ci scriviamo pure questo qui, ci scriviamo L'alunno zampanò In classe si comporta in modo scorretto e incivile E questa ce la fai firmare a papà Ma non sa scrivere Non sa scrivere E allora ce la fai firmare a mamma? No, è un alfabeto Ah, un alfabeto? Allora sai che fai? Li fai venire qua e così io ce lo dico a voce Ascoltare saprà, non sono soldi, eh Come una campana Vattene a posto, cammina, a posto Ed ora, anche senza il vostro permesso Ho il piacere di liberarmi della vostra compagnia Eh, statevo bene In piedi Apre la porta tu Benmi Benmi, fate Così